Domani manifestazione di Almaviva per l'avvertenza della sede unica. Siete d'accordo con questa manifestazione? C'è da sensibilizzare le istituzioni? Sì, c'è da sensibilizzare le istituzioni, però devo dire che anche tra i colleghi ci sono delle discordanze per quanto riguarda la manifestazione, quindi domani ci saranno molte persone che verranno al lavoro perché il servizio comunque sarà aperto. Io sono uno dei lavoratori che sono d'accordo alla manifestazione, non tanto una protesta ma è farsi sentire dalle istituzioni. Sì, questo è già un problema che per differenti ragioni va già avanti, ha avuto Stasci già da un bel po' di tempo. La situazione è sicuramente una situazione molto delicata perché a questa azienda, ma non solo la nostra sede, anche Marcellini perché siamo insieme, è legato l'esito economico e la situazione di circa 5.000 famiglie. Avete veramente paura di perdere il lavoro? Allora sì, la situazione è abbastanza delicata, nel senso che non sappiamo oggi, domani dove finiremo. Siamo circa 4.500 lavoratori, ognuno di noi ha praticamente mutui da pagare, bollette, case, bambini e quant'altro. Ogni giorno siamo nella confusione, abbiamo un susseguirsi di notizie più disparate. Adesso siamo tutti perché abbiamo paura di perdere il lavoro, perché comunque non sembrano solo parole, ma molti di noi lavorano qui sia a marito che a moglie, quindi bambini, mutuo, prestico, ormai non si ce la fa più arrivare a fine mese perché comunque siamo anche part time, molti di noi, e quindi siamo veramente preoccupati.